LDA dalla scuola di Amici al palco dell'Ariston, sarebbe un sogno, LDA è stato tra i protagonisti indiscussi della ventunesima edizione di Amici. Intervistato da Superguidativi, il giovane cantante figlio di Gigi D'Alessio ha parlato dei suoi progetti futuri e di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo, la famosa Karmesse Canora condotta da Amadeus. LDA a Sanremo dopo Amici? Parla lui, la ventunesima edizione di Amici si è conclusa qualche mese fa con la vittoria di Luigi Strangis, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra questi anche LDA che, ospite del Giffoni Film Festival, ha rilasciato un'interessante intervista a Superguidativi in cui ha confessato. Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno, non saprei come sia nata questa cosa, non c'è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tu. Progetti televisivi? Al momento no, poi un giorno chissà, penso mi divertirebbe come cosa. Ricordiamo che LDA ha scelto di entrare nella scuola di Amici proprio per farsi conoscere e levarsi l'etichetta figlio di E sembra esserci riuscito nel migliore dei modi. A tal proposito, Luca ha dichiarato, penso di esserci riuscito dai. Tutti quelli che adesso mi riconoscono per strada e magari mi chiedono una foto o mi fanno dei complimenti si dimenticano completamente che sono il figlio di. Ad oggi non è più un peso, prima lo era, oggi non più. Scopri le ultime news su Amici.